I carabinieri di Siena hanno fermato una banda dei di tale truffe a danno di anziani su tutto il territorio nazionale. L'operazione ha infatti vista la cooperazione dei militari dell'arma delle province di Napoli, Milano, Brescia, Rimini e Pistoia. La banda aveva sede a Napoli e Milano. Oltre 50 gli episodi ricostruiti dagli inquirenti nel nord e nel centro Italia, avvenuti a Siena, Perugia, Milano, Treviso, Gallarate, Domodossola, Bologna, Torino, Padova, Napoli, Tivoli e in provincia di Ravenna, a Lugo. Una parte di questi episodi sono anche avvenuti all'estero, in Marocco e Tunisia. L'area furtiva, parzialmente recuperata, costituita da gioielli e denaro, ammonta a circa 200.000 euro. 12 le persone arrestate per l'associazione per delinquere in truffe e distorsioni, ma sono in corso ancora perquisizioni nei confronti di altri indagati che risultano appartenere al gruppo. I malviventi si presentavano alle vittime offrendo la vendita di pepite e lingotti d'oro falsi. Le vittime venivano adescate esibendo piccoli pezzi realmente in oro, ma al momento della vendita all'acquirente vi venivano lasciati oggetti in ferro e acciaio solamente rivestiti in oro. Le indagini condotte dal nucleo investigativo di Siena scaturiscono da alcuni episodi di raggiro avvenuti nel capoluogo senese nell'estate dello scorso anno. I militari hanno focalizzato la loro attenzione su numerose schede telefoniche, risultato utilizzate nei singoli episodi di truffa e intestate a cittadini pakistani. Schede praticamente usa e getta che venivano buttate al termine di ogni singola operazione. Oltre alle truffe delle pepite, la banda organizzava nella stessa area d'azione anche le truffe del falso incidente. Da Napoli partivano le telefonate alle vittime alle quali veniva spiegato che un parente aveva causato un incidente. I truffatori, spacciandosi per carabinieri o avvocati, spiegavano come fosse necessaria una somma di denaro per evitare il carcere al congiunto. Dopodiché inviavano un complice già presente sul territorio al domicilio della vittima a ritirare quanto pattuito. Le vittime erano prevalentemente donne. Il raggiro era ben congeniato, i malventi infatti suggerivano agli anziani di chiamare il 112 per verificare quanto accaduto, senza tuttavia mai chiudere la comunicazione. In questo modo la vittima, credendo di comporre il numero d'emergenza, si trovava invece a parlare con gli stessi malfattori, con altri complici, che confermavano quanto prima riportato. I complici inviati sul territorio invece venivano assunti di volta in volta. Veniva offerto il viaggio di andata, treno e taxi. E poi, una volta riportato il bottino a Napoli, a Milano, dove era stato organizzato un centro di ricettazione, venivano ripagati con una parte del bottino in relazione all'opera svolta e al rischio corso. Gli ordini dei superiori non ammettevano deroghe e contestazioni, pena l'immediato licenziamento.